Nato a Montelibretti, in provincia di Roma, inizia a cantare molto presto accompagnandosi con la chitarra. Lavora presso locali notturni, in avanspettacoli e feste patronali. Sino ad essere chiamato a cantare in alcuni programmi di Radio Roma. Contemporaneamente inizia ad incidere i primi dischi. Debutta nel teatro di rivista nella compagnia di Nino Taranto nel 1944. Successivamente è con i fratelli De Rege. Per debutare nel cinema chiamato da Aldo Fabrizi per il film Emigrantes. Dove seguirà la truppe in Argentina. Nel paese sudamericano. Terminate le riprese del film. Salviati decide di fermarsi. Per proseguire in quel paese. La sua carriera di cantante e chitarrista. Lavora in vari locali notturni. Sino all'audizione della radio locale. Che lo scrittura per una lunga serie di trasmissioni. Raggiungendo ben presto una grande popolarità. Effettua varie tournee in diversi paesi Paraguay. Uruguay e Cile. In tutti gli spettacoli si esibisce da solo. Accompagnandosi con la chitarra. Presentando un vasto repertorio di canzoni italiane. Napoletane e sudamericane. Riprendendo temi musicali come il tango. La milonga. Rumbe e Boleri. Tornerà di frequente in Italia. Sia per partecipare a spettacoli radiofonici. Che per girare alcuni film. Nel 2007 dopo un lungo silenzio. Riappare in alcune trasmissioni televisive. Dove ha modo di esibirsi nel suo vecchio repertorio. Muore a Roma nel pomeriggio del 2 gennaio 2016. all'età di 93 anni.